Faccio una breve introduzione e poi lasciamo la parola alla nostra gentile velatrice che ha un problema di orario, perché ha un treno per tornare a casa, perché è venuta apposta per noi, e quindi alle 19 giuste dobbiamo chiudere e quindi dovremo stare nei tempi. Per chi ci ha seguito da un po' di tempo avrà visto che questo tema della identità, della costruzione dell'identità, in particolare nell'adolescenza, è un tema che noi abbiamo affrontato diverse volte e da diversi punti di vista, psicologici, sociologici, antropologici, eccetera. Abbiamo iniziato con questo tema dal 2008, guardavo oggi un po' le cose con Pietro Polli-Chermè, e l'abbiamo ripreso più volte fino ad arrivare a un anno fa con Matteo Lancini, che peraltro è allievo di Charmè. Perché questa attenzione a questo argomento? Ma perché, prima di tutto, perché è una fase, un momento assolutamente fondamentale nello sviluppo di un individuo, così fondamentale che Erickson, noto psicologo, attribuiva all'adolescenza proprio il compito specifico, il compito evolutivo specifico della conquista dell'identità, quindi come dire, l'adolescenza era quella per lui, costruirsi l'identità. E' anche un compito non semplice, anzi possiamo dire che è una fase particolarmente complicata, in cui si intrecciano la spinta biologica, della pubertà, eccetera, con quella sociale della cultura, che va a regolare poi gli aspetti valoriali, che definiscono cosa significa essere per esempio maschio o femmina in quel contesto culturale, sociale e storico. Quindi una fase di passaggio dall'infanzia al mondo adulto, non a caso Sofia Bignamini in una relazione proprio qua definiva questa fase la muta, che è effettivamente una bella immagine, che dà l'idea dello sforzo e della complessità, una muta nella quale l'adolescente appunto deve ricostruire, riconciliare tutte le varie immagini, identificazioni di sé che si porta dietro dall'infanzia e rimetterle un po' a sistema in una nuova immagine per arrivare più o meno ad una identità in qualche modo coerente, che stia in piedi, in cui i vari pezzi stiano insieme. E questo ovviamente porta a fare sperimentazioni, prove, tentativi di nuovi ruoli, eccetera, che sono anche delle crisi, fino a trovare quell'equilibrio che sembrerebbe andare bene per lui o per lei. Bene, in questo lavoro di costruzione dell'identità, gli adolescenti si confrontano inevitabilmente con il loro contesto socioculturale, con i genitori e in particolare con gli adulti e in particolare con i coetanei. coetanei che diventano in modo particolare proprio lo specchio privilegiato nel quale l'adolescente guarda la propria immagine, si rispecchia e quindi usa quel riflesso come una fonte di informazione, di giudizi riferiti a se stesso. Ora, in questo processo di rispecchiamento ci sono stati negli ultimi anni diversi fattori che l'hanno significativamente modificato e complessificato, ulteriormente complessificato. Ce ne sono almeno due, poi ce ne sono altri, ma diciamo i fondamentali, almeno secondo me. Un fattore è la crisi del modello adulto, quella che recalcati in una conferenza proprio qua chiamava l'evaporazione del padre, come metafora ovviamente, il padre come metafora dell'adulto, che vuol dire una minore definizione dei valori, dei ruoli affettivi, sociali, di figlio, di maschio, di femmina, di studente, di membro di quella corte generazionale e di quella comunità sociale, eccetera. Cioè, come dire, in una fase di una totale mancanza di riti di passaggio, come denunciava Charmé, se si ricorda qualcuno, se era presente qualcuno qua, quindi mancanza di riti e mancanza quindi di modelli di ruolo che sono oggi estremamente sfumati nei loro contorni, indefiniti. E infatti alcuni psicologi, eccetera, sostengono che stia emergendo in questi anni un concetto di sé non più unico, unitario, statico, ma basato su una identità dinamica, molteplice, sfaccettata, un'identità che riesce a mantenere una sua coerenza e una sua unitarietà, ma che si forma progressivamente nel tempo attraverso diverse autorappresentazioni del sé che si succedono, diciamo, nella storia di un individuo. E quindi si dice che le identità diventano fluide, provvisorie, ambigue, incerte, e quindi quando si parla, per esempio, di LGBTQ+, eccetera, sembra proprio esemplificare un po' questa... Poi non so quanto sia, ce lo dirà magari la nostra relatrice, quanto sia estendibile o ancora di una nicchia, di una parte, insomma, sarà interessante approfondire questo aspetto. Però sicuramente c'è questo fattore che ha complessificato notevolmente questo processo di rispecchiamento. E l'altro fattore che l'ha modificato in maniera profonda è proprio la presenza invasiva della rete, e in particolare dei social network, che ha modificato proprio i processi di socializzazione con tutto quello che consegue. Se vi ricordate, ancora Charmé ricordava la paura dell'invisibilità, quindi la ricerca dei like per avere il consenso, l'ambinazione, ma questo è il tema di questi tre incontri, quindi non mi dilungo. Affronto velocemente un secondo aspetto, cioè un altro aspetto che ci porta ad affrontare questo tema dell'identità, perché fra l'identità personale, come vi abbiamo parlato adesso, e quella sociale, l'identità sociale, c'è un nesso irriducibile, c'è un nesso intrinseco, non può esistere l'una senza l'altra. E quando parliamo di identità sociale, a sua volta questa è collegata ad una più o meno presunta identità culturale collettiva. Ora, questo concetto dell'identità culturale negli ultimi anni è entrato in maniera significativa nel discorso pubblico e ha assunto un peso e un ruolo importante, si parla tanto, diciamo, dell'identità culturale. E questo può essere un problema, perché se il concetto di identità culturale viene esasperato e viene anche strumentalizzato in termini politici, ideologici, e questo può diventare uno strumento che sostiene e giustifica una nuova forma di razzismo, che non è più quello biologico, del colore della pelle, ma è un razzismo forse più insidioso che qualcuno ha elegantemente chiamato un neorazzismo differenzialista, quindi basato sulle differenze, appunto, un razzismo culturale in buona sostanza. Ne dà una definizione interessante Etienne Balibar in un suo testo e dice che è un razzismo in cui il tema dominante non è il fattore biologico, ma l'insormontabilità delle differenze culturali. Un razzismo che a prima vista non postula la superiorità di certi gruppi o di certi popoli in relazione ad altri, ma solo, tra virgolette, come forse poca cosa, l'incompatibilità degli stili di vita e delle tradizioni e quindi la pericolosità dell'abolire i confini. Voi capite che passare da questo concetto di un razzismo culturale a parlare di scontro di culture o di civiltà, il passo è brevissimo, diciamo, e quindi, come dire, è un terreno scivoloso e pericoloso. Di fatto stiamo assistendo a una forma nuova, a un'espressione nuova per sostenere però fenomeni molto antichi. Insomma, di fatto, magari incomincia a diffondersi l'idea che le razze non esistono, però continua tranquillamente e allegramente ad esistere il razzismo. E la storia però ci insegna anche che esiste una reciprocità inscindibile tra razzismo e nazionalismo. Sono due ideologie che si intrecciano, si alimentano reciprocamente. E allora, come vedete, abbiamo una sorta di catena ideologica che lega identità culturale, identità nazionale, il nazionalismo, il sovranismo, la xenofobia, la migrafobia, come qualcuno la chiama, concetti che potete poi sviluppare, c'è letteratura, diciamo, su questo, adesso non sto ad annoiardi, ma direi che complessivamente sono un insieme di ideologie che definirei tossiche, i cui effetti poi vediamo quotidianamente nella cronaca quotidiana e che in più hanno un altro portato negativo, che è quello di mascherare i rapporti sociali sotto la forma di rapporti etnici, culturali, nascondendo quelli che sono invece i reali rapporti di dominio socio-economico, quelli che sono alla base delle disuguaglianze sociali, che sono i rapporti di classe, almeno dal mio punto di vista, come marxista, cioè quelli vedo come in ultima istanza gli elementi che determinano, insieme ad altri, le differenze e le disuguaglianze sociali. Maurizio Ambrosini, demografo che era venuto qui a farci un paio di relazioni, chiamava questa cosa sintetizzandola con lo slogan la ricchezza sbianca, nel senso che mica tutti quelli che vengono in Italia, magari anche di colore diverso, vengono definiti come migranti, dipende da quanti soldi hanno, da che lavoro fanno, dal titolo di studio, eccetera. Quindi, come dire, l'appartenenza sociale diventa l'elemento in qualche modo determinante. E allora, per chiudere, chiudiamo anche questa catena che abbiamo visto, ideologica, io credo che in questo clima culturale, ideologico, questo clima non possa non riflettersi, non avere delle ricadute, delle ripercussioni, anche sulla costruzione dell'identità di un adolescente, perché vive immerso in questo clima, che sia un adolescente autoctono italiano, che sia immigrato, sugli immigrati c'è una letteratura ampia, sulle difficoltà di costruzione della loro identità. Tutto questo per sottolineare la complessità e la sfaccettatura, la multidimensione... mettiamoci d'accordo perché qualcuno mi dice di avvicinarmi, devo trovare il punto d'equilibrio perfetto. Va bene, così? Così va bene? Proviamo. Quindi dicevo, tutto questo ragionamento per sottolineare soltanto appunto la complessità e la multidisciplinarietà, la multidimensionalità di questo tema dell'identità e quindi la sua importanza e quindi l'importanza di affrontarlo senza stancarsi mai. E i tre incontri e concludo che l'abbiamo organizzato vanno proprio a toccare alcuni aspetti di questo tema complesso. Oggi cominciamo, comincia a parlarcene Elena Bissaca che ringraziamo ancora per la sua disponibilità. Bissaca collabora con l'associazione Dein, magari ci dirà lei qualche cosa e quindi in questo suo lavoro entra in rapporto costante con i giovani, la memoria pubblica, eccetera, quindi come dire ha un rapporto diretto quotidiano diciamo con la fascia di età poi di cui parla e di cui scrive perché ha anche attraverso questa esperienza partecipato alla stesura di un libro, un libro collettaneo con Cerulo e Scarcelli, Giovani e social network, emozioni, costruzione dell'identità, media digitali di Carocci del 21, quindi un libro molto recente che indaga proprio sulle pratiche di costruzione dell'identità giovanili attraverso l'uso dei social network diciamo e quindi decido volentieri la parola anche perché ho portato via fin troppo tempo. Ok, così la giusta distanza nel microfono spero se si sente male ditemelo. Giusta distanza? Giusta distanza, esatto. Allora, intanto grazie di questo invito e di questa bellissima occasione soprattutto di essere un po' più indietro. Ok. Anche di essere in questo bellissimo posto nel senso mi fa molto piacere. Sì, io parto dal raccontarvi velocemente chi sono ma perché appunto parliamo, sono qui a partire appunto un po' da questo volume Giovani e social network che in realtà io mi occupo meno di social network più di più di giovani però ho lavorato ci ho fatto con appunto Cerullo e Schercelli questo lavoro un paio di anni fa a partire da una serie di interviste ai giovani sul tema dei social network quindi proverò a tenere tutte insieme ma intanto io arrivo da un percorso che si occupa tendenzialmente di memoria e di memoria pubblica nel senso che insieme all'associazione Deina costruiamo viaggi di memoria per i giovani i giovani tendenzialmente delle scuole superiori quindi vanno dai 16 ai 19 anni ma arrivano anche alle università per esempio a Milano lavoriamo con l'università di Statale Bicocca e organizziamo i viaggi ad Auschwitz una volta diciamo a marzo è il periodo di viaggio febbraio-marzo questi viaggi collettivi verso Auschwitz ma anche tutta una serie di altri percorsi sulla storia e le memorie europee del novecento che spaziano dalla prima guerra mondiale alla guerra nei Balcani con l'idea che la memoria sia un potente strumento educativo e formativo per ragionare di valori oggi e quindi della società che si vuole costruire insieme in questo percorso a un certo punto mi sono fermata e ho fatto un dottorato in sociologia lavorando sui treni della memoria esistenti in Italia e studiandoli come processo formativo quindi cercando di capire in che modo occupandomi molto di sociologia della memoria cercando di capire in che modo queste progettualità di fatto costruiscono formazione e che cosa lasciano i partecipanti e per farlo ho usato la lente della sociologia in particolare della ricerca partecipativa per cui ho viaggiato insieme a gruppi di studenti proprio mettendomi dalla parte di chi partiva lavorando con loro da prima del viaggio durante il percorso di formazione intervistandoli nel momento in cui accedevano all'esperienza in cui si avvicinavano al viaggio viaggiando insieme a loro e poi ritornando insieme a loro per ragionare di quali fossero le domande la ricerca dei giovani che si avvicinano a un percorso come un viaggio ad Auschwitz piuttosto che un percorso di memoria e quindi provando a ragionare insieme a loro su quale fosse la vera domanda che tendenzialmente non è un puro interesse storiografico ma c'è tanto altro dietro e questa ricerca mi ha molto avvicinato alla riflessione su alcuni concetti identità memoria e narrazione e questi concetti in realtà mi sono tornati molto utili nel momento in cui ho lavorato a queste interviste di cui adesso vi racconto brevemente che hanno poi fatto nascere questo lavoro sui giovani e social network perché di nuovo anche riguardo ai social i termini identità memoria e narrazione sono dei principi attraverso cui guardare all'uso che i giovani fanno dei social network in qualche modo quindi in tutto questo per solo un po' per ritrovare il filo ma per non presentarmi come esperta di social e di media perché effettivamente non è il campo da cui arrivo ma l'ho intercettato in questo senso io credo che appunto sia molto interessante tutto il discorso sull'adolescenza e il fatto che questo lavoro nasce da un questionario sottoposto a 350 giovani tra Torino Padova Perugia Palermo e Cosenza è stato somministrato i primi anni dell'università tendenzialmente di università umanistiche per cui ha netta predominanza femminile infatti degli intervistati e delle intervistate abbiamo circa un centinaio 120 uomini e circa 300 no scusate circa 200 e qualcosa donne o almeno che così si dichiarano sui questionari la scelta è stata quella di fare un questionario a risposta aperta con tre grandi domande riguardanti l'uso dei social cioè quando venivano usati quali emozioni erano o sono connesse all'utilizzo dei social e quale tipo di maschere i giovani indossano cioè provando a chiedere loro se effettivamente ritengono che nell'uso di questi strumenti esista l'uso di maschere intese come personaggi in qualche modo che uno assume e da ultimo se c'era una differenza nel rapporto online o nel rapporto faccia a faccia con le persone provando a lavorare su queste tematiche la scelta di fare delle risposte aperte è sempre a mio avviso abbastanza coraggiosa perché poi è molto complicato e complesso recuperare rileggere le risposte recuperare il tutto ed è insomma si chiede un grande sforzo perché un conto è un'intervista in cui c'è una relazione un conto è proprio mettersi a fare a prendersi mezz'ora un'ora per compilare un questionario però devo dire che ha funzionato alla fine e l'idea è stato quello di lavorare sulla ricerca qualitativa quindi di lavorare sulle loro risposte che pone una serie di ragionamenti interessanti nel senso che da un lato si cerca di tenere fedeltà al campione dall'altro si cerca dentro quelle risposte tutti gli elementi ricorsivi in qualche modo che possano far presupporre una predicabilità dei risultati cioè il fatto che possano essere in qualche modo estendibili i giovani avevano tra i 21 e i 23 anni quindi io credo si possa ancora parlare di adolescenza proprio se uno considera l'adolescenza quella fase della vita in cui si ricerca un'identità e in qualche modo si ricerca un proprio posto nel mondo visto che la precarietà in qualche modo ci porta ad allungare tutte queste fasi nel corso della nostra esistenza ed essere giovani fino a un'età tendenzialmente non giovane ma insomma questa eterna giovinezza di cui io poi sono anche molto felice non arriverò mai all'età adulta probabilmente per come viene concepita però effettivamente anche l'adolescenza in questo senso rispetto a trovare il proprio posto nel mondo a trovare una propria identificazione è molto complesso con l'incertezza totale rispetto al futuro quindi li considererei ancora appunto e sono stati considerati in qualche modo ancora ancora adolescenti cercherò di essere il più coerente possibile poi vado un po' per grandi parole grandi temi cercherò di non essere troppo lunga anche perché mi interessa poi molto in realtà un dialogo un ragionamento eccetera anche perché appunto l'ultima cosa sulla ricerca che ci tengo a dire è che fondamentalmente le risposte non tanto perché è stato richiesto ma perché questo genere cioè nel 2021 chi aveva tra i 21 e i 23 anni comunque rispetto ai social risponde ancora su due grandi social che sono ancora Facebook e Instagram TikTok non aveva ancora avuto la grande rilevanza che ha avuto nell'ultimo periodo e quindi fondamentalmente chiedendo loro quali fossero i social che utilizzavano hanno risposto questi due più WhatsApp e credo sia interessante ragionare su questi tre proprio perché appunto c'è c'è questa idea che i social la rete preveda due tipi di comunicazione una comunicazione pubblicamente privata e una comunicazione privatamente pubblica la comunicazione pubblicamente privata è quella comunicazione che avviene che avviene in un contesto social ma tra amici quindi sono i gruppi chiusi o i gruppi WhatsApp o WhatsApp cioè utilizzare qualcosa che ha potenzialmente un uso pubblico ma lì dentro ritrovare una sfera privata quindi una sfera che riguarda determinate amicizie invece la narrazione privatamente pubblica così definita la comunicazione privatamente pubblica è quella comunicazione in cui io scelgo di raccontare il me privato ad un uditorio pubblico che è quello che si fa attraverso tendenzialmente appunto Facebook Instagram i video le immagini con cui scegliamo di lanciarci nella grande società dei social di social si parla da tanti anni io credo che la cosa più complicata è che cercherò di fare nel restituirvi un po' i risultati di questo lavoro nel raccontarveli sia stato il fatto di farlo proprio un po' con l'occhio dell'essere ricercatore e ricercatrice quindi di stare fuori dal giudizio e di stare il più possibile fuori dalle definizioni che normalmente vengono date dei giovani perché poi parlando di identità esiste appunto la propria ricerca identitaria esiste tendenzialmente anche la narrazione cioè l'essere narrati dall'altro e quindi tendenzialmente i giovani vengono molto spesso definiti e definiti in modi spesso non molto carini ma comunque c'è un grande giudizio intorno a questa categoria e a come si muove nel mondo per cui lo sforzo in realtà è stato provare a stare fuori da questo giudizio il che non significa necessariamente giustificare qualunque cosa ma provare semplicemente osservare e poi la cosa interessante io credo che possa essere discutere poi anche insieme qui degli effetti che poi queste cose hanno invece all'interno cioè questi elementi hanno all'interno della società io partirei dal concetto di identità nel senso che è un concetto su cui ci si capisce molto facilmente cioè è molto da un lato è molto chiaro dall'altro è un concetto estremamente scivoloso e faticoso nel senso che intanto almeno tanti sociologi che si occupano e si sono occupati di identità mettono molto allerta dall'usarlo come concetto a se stante cioè l'identità non è un'essenza è una strategia fondamentalmente è uno strumento attraverso cui guardare i discorsi che le persone fanno su se stesse in qualche modo quindi è interessante l'idea che l'identità si possa declinare e sia giusto declinarla a livello individuale tu parlavi di un'identità sociale che ha a che fare con il riconoscimento io credo e quindi con la dimensione per cui esiste l'identità individuale e l'identità individuale non esiste se non esiste l'altro da me nel senso che in un luogo in cui sono da solo non c'è un tema identitario c'è nel momento in cui esiste qualcuno o qualcos'altro ma non diffido molto e in questo seguo le narrazioni più degli antropologi come remotti salse eccetera che ritengono che l'identità collettiva sia un termine che non dovrebbe essere utilizzato proprio perché si arriva a quel discorso che giustamente tu facevi di razzismo culturale nel senso che diventa non una strategia una narrazione un insieme di racconti ma l'identità collettiva molto spesso è una gabbia che c'è una definizione fissa che diventa quindi una gabbia dentro cui vengono messe le persone per categoria e secondo determinate etichette intorno alle quali si costruisce l'esclusione si costruisce la diversità si costruisce il nuovo razzismo per cui io credo che appunto si faccia sia in termini nazionali cioè con i classici nazionalismo in avanti per cui dentro e fuori europeo non europeo insomma ci sono tutti quegli elementi lì ma si fa sicuramente anche per categorie che sono sociali per categorie che sono economiche e quindi i giovani sono molto spesso chiusi dentro un'idea di identità collettiva molto ristretta così come lo sono i migranti così come lo sono le persone che si definiscono fluide cioè nel senso è molto facile che diventino delle gabbie per cui tu sei quella cosa lì per come viene definita e non ne puoi uscire e questo è sicuramente un elemento che però da rifuggire ma che non possiamo far finta che non esista soprattutto se parliamo di ricerca identitaria dei giovani perché ovviamente con quelle etichette i giovani si confrontano costantemente nel senso che a partire dalla mia esperienza da educatrice di tutti questi anni che lavora quotidianamente con gruppi di ragazzi tra i 16 e i 19 anni l'etichetta è la cosa più evidente che esista nel senso che lavorare nelle scuole significa avere molto presente che nelle dinamiche che uno si ritrova di fronte anche quando conosce una classe esistono i ruoli esistono le etichette così esattamente come esistevano sulla strada diciamo c'è molto questa idea che quando si cresceva per strada era un mondo più sano in realtà non c'è niente di peggiore della strada perché la strada ti infila in quei ruoli e se sei lo sfigato se sei il bello se sei il brutto se tendenzialmente non c'era possibilità di uscire da questi ruoli quindi facendo anche progetti invece in cui decidiamo di mescolare persone istituti superiori per esempio per i viaggi della memoria una delle grandi occasioni che ci rendiamo conto loro colgono è quella di poter entrare in un gruppo nuovo che fa molta paura per tutta una serie di ragioni ma che ci permette di non essere quelli che siamo nel nostro quotidiano che ci permette di uscire di sperimentarci e che permette appunto di non essere conosciuti e chiusi dentro quella definizione i social sono un po' questo mondo qua o hanno questa potenzialità quindi nell'ottica dell'essere degli elementi molto complessi e su cui sicuramente noi abbiamo presente molto gli aspetti negativi che vanno anche dal cyberbullismo gli hater cioè nel senso tutta una serie di elementi molto negativi hanno potenzialmente spesso essendo degli strumenti estremamente reali ricostruiscono la realtà nel senso per cui molto spesso rimettono i ruoli tengono i ruoli ma sono anche degli spazi vuoti come diceva appunto cioè degli spazi d'avventura potremmo anche definire inizialmente dei non luoghi in cui uno in qualche modo si può rigiocare questo elemento quindi in tutto questo l'idea è però provare a ragionare l'identità non come stato che è proprio l'idea di avere un nome un cognome una nazionalità un codice fiscale quelle cose che vengono assegnate diciamo alla nascita ma come una rappresentazione e quindi l'identità come rappresentazione di sé è un insieme di funzioni che ci orienta l'identità è una sorta di filo rosso attraverso che io faccio della mia vita quando metto in pratica l'autoosservazione e l'autoriflessione per cui chiedere a una persona di parlare di raccontarci di sé significa chiedere questo sforzo che ha a che fare con il tenere insieme se stessi nel raccontare una versione coerente di se stessi ed è per questo che l'identità ha molto a che fare con la memoria perché ha molto a che fare con la memoria individuale nel senso che esattamente come una società decide a livello pubblico e collettivo che cosa ricordare e che cosa non ricordare di sé e a seconda di ciò che ricorda e non ricorda ha un'immagine del proprio futuro e lo sappiamo benissimo cioè nel senso la prima cosa che si fa a livello pubblico e politico è ridiscutere il passato ridiscutere il modo in cui parliamo del passato e questo ha molto a che fare con quello che crediamo dell'oggi e con i nostri valori politici sociali eccetera questa cosa in realtà esiste anche per gli individui gli individui scelgono nel loro nel loro passato nel loro background di raccontare qualcosa ovviamente a seconda delle situazioni io a voi posso raccontarmi in un modo alla mia migliore amica mi racconto in un altro modo tendenzialmente ad un gruppo di studenti che incontro la prima volta mi racconto ancora ma non perché io sia una persona che si nasconde dietro grandi maschere ma perché a seconda dei contesti uno mette da rilevanza degli aspetti di sé differenti quindi ha molto a che fare con la memoria e in questo insomma ricordare per esempio i personaggi di Oliver Sacks che è questo test pubblicato da Delphi che è l'uomo che scambiò sua moglie con un cappello che racconta di una serie di casi clinici che lui ha e ci sono questi due personaggi che perdono la memoria uno reinventa costantemente se stesso proprio perché non ricorda niente quindi adotta questa strategia del continuamente inventarsi e quindi in qualche modo perde un'identità perché non ha la memoria non sa più chi è il secondo è convinto di vivere ancora nel 1945 quando aveva 19 anni ed è fermo in quel punto senza nessun tipo di memoria di quello che è successo dopo quindi anche lui senza memoria in modo diverso perde in qualche modo la sua identità o rimane fissa in quel posto in quel punto perché non ha memoria di quello che è successo dopo quindi questi due personaggi ci raccontano in qualche modo l'intrinseco legame che questi due elementi hanno e quindi l'idea appunto è di parlare appunto di strategia non di essenza cioè l'identità non è qualcosa che ci definisce per sempre e questo è anche molto rincuorante io credo quando ce lo raccontiamo e lo raccontiamo ai giovani cioè che quello che sono oggi non è quello che necessariamente saranno dopo domani e questo ci dà delle grandi potenzialità e quindi però averne la consapevolezza avere la consapevolezza che appunto è un racconto e come ogni racconto per esistere ha bisogno di un uditorio nel senso che se non c'è nessuno a cui raccontare chi siamo è difficile che noi riusciamo a capire chi siamo e quindi in questo senso le solitudini molto spesso sono molto controproducenti per la costruzione identitaria o per una costruzione identitaria sana perché appunto essendo che è una narrazione che pesca nella memoria però è indubbiamente una narrazione e qui arriviamo un po' al secondo grande concetto a cui io credo credo che appunto anche i social abbiano a che fare e su questo io vorrei leggervi un passo che ho qua scusate l'ho fotografato uso i telefoni un passo di Paolo Jedlowski un sociologo che dice che lavora sulle storie e dice questo le storie costituiscono un aspetto importante dell'identità della persona in quanto narrazioni di eventi sperimentati direttamente o indirettamente esse condizionano il modo con cui guardiamo eventi analoghi esse sono modi con cui parliamo della nostra identità di uomini fino a diventare in una certa misura uno specchio di questa identità attraverso la loro schematizzazione le storie costruiscono identità costruiscono mezzi per attribuire significati e fonte di significato anche per la creazione di sistemi concettuali attraverso il loro legame con le storie accumulate in una cultura esse connettono individuo e società il patrimonio di storie di cui la persona dispone quando adulta non costituisce solo la fonte della sua stabilità o delle sue trasformazioni ma diventa al tempo stesso uno strumento di lavoro una bussola per mezzo della quale orientarsi quindi l'importanza delle storie le storie fanno parte della nostra quotidianità costantemente ci raccontiamo storie avvenimenti che sia in ufficio a tavola davanti a un caffè quello a cui accediamo sempre sono narrazioni cioè che siano film che siano i libri che leggiamo che siano le grandi narrazioni della nostra società che fa su di sé cioè noi accediamo costantemente a dei modi di raccontare la realtà delle rappresentazioni della realtà e in ultima istanza delle storie e questo è il centro della narrazione nel senso che appunto la storia è la cosa narrata il racconto è il discorso con cui noi narriamo la storia e la narrazione è l'atto l'atto pubblico quindi l'atto narrativo in cui c'è qualcuno che narra una storia e qualcuno che l'ascolta a questo si può aggiungere un'idea di trama che è il modo in cui io costruisco la storia come la connetto ma questo in realtà in questo elemento ci interessa meno però l'idea è che noi siamo le storie che abbiamo vissuto le storie che raccontiamo attraverso le storie noi sperimentiamo mondi ci sono le storie che noi abbiamo vissuto e che ci rendono quello che siamo ma il parlare di storie altrui ci permette di confrontarci per esempio sui valori ci permette di confrontarci su che cosa pensiamo di alcune situazioni ci permette di sperimentare dei mondi che non vivremo mai che è un po' quello che facciamo di base con la lettura che facciamo di base con il guardare film e l'accedere alle grandi narrazioni che esistono nella nostra società ma lo facciamo anche con cose piccole per cui quello che molto spesso uno chiama pettegolezzo e che anche non so Harari nel suo libro Homo Sapiens racconta di quanto sia stato importante fin dall'inizio il pettegolezzo perché parlare degli altri in una società ci permette di connetterci di stare insieme di capire di chi e cosa e come fidarci di come muoverci nella società in realtà appunto l'idea che noi ci raccontiamo storie di qualcuno ci permette di confrontarci sul posizionamento di esperienze che magari noi non vivremo sulla nostra pelle ma comunque stando dentro una società su cui abbiamo un'opinione un posizionamento e un modo di rapportarci questo lo dico perché Facebook Instagram i social sono i luoghi delle storie si chiamano storie e non credo che sia necessariamente un caso il fatto che si pubblichino storie e attraverso quel mondo lì noi cioè si accede ad un mondo infinitamente più vasto rispetto a quello che abbiamo a disposizione nella nostra realtà e quindi il modo in cui ragazze e ragazzi stanno sui social ha molto a che fare con la finestra cioè col fatto che sia una finestra sul mondo e quindi sul tipo di reazioni e costruzione della loro identità a partire dalle storie altrui per cui accedi a quelle storie e quelle storie ti muovono delle emozioni quelle emozioni diventano consapevolezza e in qualche modo uno si costruisce anche attraverso questo elemento qua sono anche ovviamente delle grandissime trappole e adesso poi ci ci arriviamo però l'idea è che la storia sia appunto cioè la narrazione possa essere in qualche modo qualcosa di referenziale quindi che dà delle informazioni ci sono narrazioni espressive anche sui social che raccontano provano a raccontare chi sono io ci sono delle narrazioni affabulatorie che hanno a che fare più con il piacere del saper raccontare delle narrazioni che hanno a che fare con la trasmissione quindi con la trasmissione di un sapere che raccontano cioè che mettono in condivisione non sapere una conoscenza e poi ci sono le storie che affermano valori un punto di vista morale e che in qualche modo ci posizionano quindi questo è un altro elemento molto molto rilevante cioè l'idea che esista una narrazione l'idea che esista una narrazione di nuovo prevede qualcuno che racconta e qualcuno che ascolta e sui social quel qualcuno che ascolta è estremamente rilevante nel senso che molte ragazze e ragazze intervistati dichiarano che per loro è estremamente rilevante il fatto di postare qualcosa e quindi scegliere cosa raccontare di sé e allo stesso tempo aspettare e capire se c'è una reazione quello è forse la parte che provoca più ansia dei social perché perché ogni volta che io mi esprimo soprattutto se sto sperimentando qualcosa di me mi espongo in qualche modo a ricevere o a richiedere un riconoscimento perché evidentemente questa è la funzione sociale dell'identità io costruisco un'idea di me cioè cerco di rappresentarmi sui social noi ci rappresentiamo in qualche modo ci rappresentiamo tendenzialmente positivi come persone che riescono ci rappresentiamo la parte bella di noi e su questo poi ci possiamo ragionare anche insieme nel senso che ovviamente siamo in una società della brandizzazione della performance in cui ci si richiede un certo modo di essere e su questo i social sono semplicemente uno specchio di tutta un'altra serie di quello che è anche il mondo reale e però appunto l'idea è che io costruisco un'immagine di me ma se quell'immagine di me non viene guardata da nessuno in qualche modo mi manca quel riconoscimento e quindi sembrano delle stupidaggini ma le reazioni sono fondamentali cioè chi si espone sui social lo fa pensando che ha un uditorio un uditorio che deve farsi sentire in qualche modo e quindi anche solo con dei like ok cioè nel senso non è che però c'è molto l'ansia di restare invisibili questa è una cosa estremamente comune cioè l'idea di non essere visti e di non essere viste e quindi ricevere like ovviamente se arriva dalle persone giuste è meglio però è l'idea di ricevere like e ogni tanto mettere like e quindi fare parte invece di quell'uditorio di riferimento che accetta e riconosce la persona che racconta qualcosa sui social ma farlo anche nell'ottica del mi faccio vedere metto un like così poi in qualche modo lo riceverò anch'io però è un gioco di non in cui ciascuno posta e rimane nel lettere ma c'è proprio una richiesta di relazione una richiesta di uditorio questo io credo sia interessante perché di nuovo spostandomi sul lavoro invece di educatrice non sui social ma di persona che poi con gli studenti costruisce questa relazione in viaggio proprio fuori diciamo dai contesti più classici e scolastici la sensazione di chi questo adesso forse esco fuori tema per farvi capire ragazzi e ragazze che partono per Auschwitz partono sempre con questo carico del dire poi dovrai diventare testimone a tua volta della storia eccetera quando tornano tutti dicono ma nessuno mi ha chiesto niente non mi hanno chiesto niente a scuola non mi hanno chiesto niente a casa mi hanno chiesto come è andata cosa vuoi dire bene grazie nel senso ho visto un luogo come e quindi questa cosa che ho affrontato nei lavori precedenti mi torna un po' su questa cosa che uno richiede il riconoscimento ma poi il mondo fa fatica nel senso non ti pone le domande non c'è molto spesso manca l'uditorio e quindi le esperienze rimangono un po' mute in realtà i social tutto sommato sono luoghi in cui ovviamente in modo completamente diverso non c'è un ascolto non c'è una narrazione attenta eccetera ma in qualche modo c'è quella richiesta lì che costruisce un livello di ansia molto alto cioè sensazioni anche emozioni anche fortemente negative guardando le interviste in realtà ci si muove molto cioè uno le persone i ragazzi e ragazze raccontano il loro profilo cioè mettono in gioco la loro immagine ma allo stesso tempo se diciamo la narrazione di sé e che poi è l'ambito autobiografico quello che è molto legato appunto alla costruzione identitaria muove verso due poli nel senso può essere una presentazione di sé che è il racconto di quello che si è che si fa che non mette in discussione niente di sé oppure alla ricerca di sé sono i due grandi le due grandi direzioni verso cui può muovere il racconto autobiografico molto spesso per come queste ragazze e ragazzi raccontano la loro esposizione sui social si sta sulla presentazione di sé che vuol dire non mettere in discussione niente vuol dire non attivare quella ricerca autobiografica identitaria che davvero costruisce che davvero dà spazio alla sperimentazione che davvero dà spazio un po' in qualche modo al mettersi in discussione mettersi in discussione rispetto al mondo e quindi a costruire un pezzo di sé della propria del proprio essere quindi questo sicuramente è un elemento anche perché tutti e tutti quasi tutte raccontano ovviamente che c'è spazio per gli aspetti positivi o le emozioni che noi mettiamo dentro la sfera delle emozioni positive c'è pochissimo spazio per la debolezza c'è pochissimo spazio per la fragilità c'è pochissimo spazio per la tristezza c'è pochissimo spazio per tutte quelle emozioni o quelle ombre che però costruiscono e in un discorso identitario sono molto importanti per costruirci come persone complesse fatte di zone d'ombra e non solo di un'immagine bidimensionale postata su instagram quindi in questo senso c'è in qualche modo una presa diciamo di non tanto una presa di coscienza ma appunto la consapevolezza che ci si rifà in qualche modo ad un solo ambito a livello emotivo ad un solo ambito a livello perché c'è proprio l'idea che il resto è più privato in qualche modo no? Cioè tutta la parte di sofferenza eccetera non si mette in condivisione con gli altri o quello che posso condividere sono le mie vittorie perché mi piace perché sicuramente ci dà da un'immagine di noi più più importante ma un po' io credo e la sociologia un po' questo ce lo restituisce come letteratura che non mette anche chi mette emozioni negative è giudicato male ma perché anche sui social del negativo non ci si fa tanto carico o è molto faticoso farsi carico del negativo quindi qualcuno che mette qualcosa di negativo qualcuno che racconta le fragilità è considerato è giudicato tra virgolette male o comunque almeno si giudica il fatto che abbia sbagliato il luogo perché perché in realtà non c'è uno spazio così aperto potenzialmente come quello di un social farsi carico del negativo è molto complicato ma questo non è altro che quello che capita nella quotidianità nel senso che e poi continuo a parlare di social e quotidianità ma per i giovani i social sono la quotidianità e sono solo un pezzo della quotidianità non c'è niente di irreale rispetto a quello che capita è l'idea che appunto l'emozione negativa che esprime un dubbio esprime in qualche modo una richiesta eccetera venga in qualche modo lasciata lontana perché è decisamente faticosa quindi insomma questi sono un po' gli elementi credo sia molto interessante la riflessione che appunto fa a partire da come McLuhan che è questo sociologo della comunicazione rileggeva il mito di Narciso cioè sostenendo che Narciso in realtà si innamora della sua immagine perché non la riconosce come sua cioè si innamora dell'immagine che vede riflessa perché non la percepisce come la sua propria immagine e quindi in realtà una delle cose che mi chiedo rispetto ai social e che mi sono chieste è in qualche modo questi social sembrano dell'essenza degli specchi perché in qualche modo uno si racconta si mette la propria immagine e cerca di assomigliare alle immagini altrui ovviamente esiste un'etichetta dei social cioè ciascuno ha idea di chi posta nel modo giusto sbagliato ha una sua idea per cui c'è un modo c'è il modo giusto di stare al mondo non c'è il proprio modo di stare ma c'è il proprio il modo giusto di stare in quel contesto e quindi in qualche modo diventano ciascuno racconta un'immagine di sé e diventa una grandissima stanza degli specchi in cui aspetti il riconoscimento dell'altro ma intanto racconti di te e a parte appunto il tema dello specchio che credo sia interessante perché è sempre stato un elemento molto problematico in qualunque cultura in qualunque narrazione c'è un oggetto che porta con sé una problematicità interessante l'idea è un po' che come tanti narcisi è stato un po' definito così sui social uno mette la propria immagine si innamori di quell'immagine ma perché non ha tanto contatto con la sua reale immagine cioè perché in qualche modo non è l'immagine reale di me ma è molto distaccata da me e quindi è quello che io voglio mostrare non sono quello che io sono davvero e quindi sembra un po' che ci sia tanto questo gioco del rispecchiarsi in uno stagno ma ti innamori di una roba che non sai di essere tu perché non conosci davvero a fondo te stesso non sai esattamente chi sei e quindi in qualche modo prendi un'immagine che l'importante è che la faccia sia la tua e che la gente lo riconosca ma che spesso sai benissimo non corrisponderti davvero cioè sai che è quello a cui miri è quello che vuoi far sapere di te o vorresti essere ma non ha niente a che vedere con l'intimità e in questo appunto c'è torna molto anche questa idea di imperativo dell'esposizione dell'essere prestanti dell'essere esposti dell'essere visti è abbastanza inquietante devo dire l'idea che siano luoghi in cui uno costruisce immagini sono luoghi io credo appunto anche molto di sperimentazione perché uno costruisce immagini decostruisce quello che vede c'è una grandissima consapevolezza in generale dell'uso che gli adulti fanno dei social quindi rispetto agli hater nel senso sono milioni di progetti nei confronti dei giovani sul cyberbullismo sugli hater eccetera e poi quando vai a vedere l'età media di chi scrive produce audio online sono tra i 40 e i 50 anni per cui evidentemente non sono loro le persone a cui rivolgere questi sforzi formativi ed educativi e questo ce l'hanno molto chiaro cioè la rabbia è una delle emozioni che molto spesso viene nominata rispetto ai social perché cioè nel senso non è apprezzato quel modo e ovviamente si rendono perfettamente conto dell'esclusione del razzismo insomma di tutto quello che è un discorso razzista un discorso escludente è un discorso in generale offensivo poi questo non significa che ci sia un'idea politica o civile particolarmente posizionata o spiccata però almeno rispetto a tutta una serie di cioè nel senso rispetto all'idea del non insultare del non non è lo spazio per fare determinate discussioni ce l'hanno molto chiaro la cosa appunto è che effettivamente quindi questo elemento ce l'hanno però dall'altra parte appunto hanno questo quest'ansia di questo elemento dell'apparire importante devo dire che alla fine di tutta la lettura di queste interviste dell'analisi mi sono resa conto che quello che loro raccontano di come usano i social proprio ha molto a che fare con l'esposizione il dover essere il doversi mostrare il dover mostrare le vite felici e da tutto spazio questo elemento ma nel momento in cui loro rispondono a quella domanda aprono quello spazio di dubbio di zone d'ombra di racconto di sé per cui non è vero che non ci sia la capacità di farlo il social non è il posto giusto ma io credo che la cosa interessante è che invece se uno apre uno spazio di dialogo con gli adolescenti su come vengono usati i social lì sì che si apre lo spazio a un'idea di costruzione identitaria di autoriflessione di autoragionamento sul come io uso i social su quali problematiche portano sul fatto che esista il negativo in noi e ce l'hanno perfettamente chiaro che il negativo e la fragilità esista quello non è il posto dove metterlo però mi è venuto il dubbio e comunque devo dire anche un po' ho tirato il sospiro di sollievo perché dici forse il questionario mette un pezzettino cioè ti fa raccontare quello che loro vedono di quel mondo ma sono perfettamente in grado di metterlo in crisi di costruire un dubbio su questo quindi di di mettere coscienza e forse una buona attività che da educatori si può fare proprio lavorare insieme su come si usa quella roba lì ma non perché ci sia un modo cioè sia necessario insegnare ad usarlo in modo diverso ma perché sia molto importante come su ogni cosa che uno fa avere una un occhio di autoriflessione autocritica e di riflessione che però parta da un cerchio da persone che si parlano si confrontano e che sono lì tutte intere pronte a condividere uno cioè gli aspetti positivi che quelli negativi quindi in realtà io credo che ci sia sempre una grande occasione dei social perché proprio il parlare di come usiamo i social e di cosa fanno i social a noi avendo anche fatto percorsi sul cyberbullismo quando si apre questo tema sono estremamente attivate e attivati nel senso che hanno una gran voglia di discutere hanno una gran voglia di discutere anche con gli adulti di questi elementi quando c'è uno spazio perché un po' perché ne hanno bisogno e un po' perché hanno bisogno di dirsi delle cose ogni tanto quindi anche gli spazi in cui cioè gli social non permettono un vero dialogo e questo ce l'hanno tutti molto presente e quindi io credo che da un lato ti facciano sperimentare immagini di te e questo possa essere comunque un elemento interessante ma credo che sia sempre più urgente riaprire gli spazi di dialogo di confronto che insomma non vuol dire che i social sono altro anzi io credo che sempre di più poi tra l'altro con TikTok adesso non sono così esperta però sempre di più si emergano elementi più di interessanti più di anche di denuncia cioè non lo so TikTok è un video che mettono molto in ridicolo le persone quindi rispetto ai tempi davvero due o tre anni fa in cui ciascuno postava la foto perfetta di sé piena di filtri TikTok ha tantissime cose di gioco di risate di mettersi in ridicolo cioè per cui secondo me c'è anche proprio un'evoluzione un po' in questo senza appunto rischiare di ridefinire i giovani in una casellina specifica l'unico altro elemento ma questo proprio solo come spunto direi finale la cosa che trovo interessante è che questo in realtà deriva un po' più dal pezzo di dottorato sui viaggi ad Auschwitz che infilo ma perché ragionando con molte ragazze e ragazzi hanno molto chiaro che invece il fatto che appunto i social siano delle vere e proprie finestre sul mondo e molto spesso siano un po' le uniche finestre sul mondo attraverso cui accedono anche all'attualità c'è un problema di grande semplificazione dei discorsi e anche dei discorsi cioè nel senso che se uno deve definire se stesso ma anche capire come posizionarsi nel mondo sono pochi canali che i giovani utilizzano per conoscere il mondo per prendere posizione quasi tutte e tutti ma anche da questi questionari emerso comunque tra le righe ritengono che tutto quello che ha a che fare con la politica eccetera sia un mondo completamente inaccessibile poi ovviamente nel momento in cui parlano di valori questioni sociali che hanno ben presenti o su cui prendono posizione stanno di fatto parlando di politica in senso più lato e però hanno una grande senso di distacco da quell'elemento e in più hanno un po' la percezione del del vedere costantemente la tragedia dell'essere in qualche modo sopraffatti anche da immagini della quotidianità e dell'attualità talmente pesanti e talmente forti che si sentono un po' come diceva Susan Sontag negli anni 90 rispetto alla guerra nei Balcani ma che arrivano ad essere completamente desensibilizzati rispetto ai drammi della quotidianità ai drammi dell'oggi perché è un continuo bombardamento di immagini su situazioni molto distanti su cui c'è c'è ben poco da fare in qualche modo e quindi mi colpiva perché le persone che io avevo intervistato con cui ho viaggiato per Auschwitz con quegli anni l'anno in cui ho fatto il dottorato mi dicevano sai io faccio questo viaggio perché voglio mettermi alla prova per vedere se riesco a sentire qualcosa e a provare empatia e quindi mi faceva effetto questo essere costantemente nel mondo soprattutto dei social bombardati da immagini di tragedie e puoi dire ma per sentire qualcosa cosa devo fare beh metto il corpo in gioco vado viaggio e mi metto appunto in gioco io per vedere se poi sulla mia pelle sento una sofferenza sento costruisco l'empatia nei confronti dell'altro poi ovviamente andare in luogo come Auschwitz per quanto il nome sia cioè nel senso è un memoriale per cui spesso non trovi quella violenza che vedi invece nelle immagini per cui c'è un cortocircuito complicato su cui si lavora insieme ma effettivamente questa cosa del necessità di fare esperienza di rimettere in gioco il corpo di andare a toccare ma non le tragedie però andare proprio a mettere in gioco la propria capacità di sentire togliendo per un attimo le immagini dei social è molto è molto importante e quando molto special cioè quasi sempre quando viaggio con ragazze e ragazzi una delle cose che ci dicono alla fine non abbiamo quasi toccato i telefoni quasi toccato i telefoni cioè non li abbiamo usati che non vuol dire che hanno fatto le robe straordinarie vuol dire che semplicemente se sei occupato in un'esperienza che fai col tuo corpo non hai bisogno del social magari lo racconti sui social ovviamente non è che non lo racconterai mai ma nel momento in cui sei impegnato a fare una cosa col corpo allora lasci per cioè nel senso non è quello il momento della socializzazione è proprio il vuoto dell'esperienza del corpo secondo me che lascia uno spazio infinito invece all'esperienza del social e credo che questi anni di distanza di covid didattica distanza ovviamente non abbiano in nessun modo aiutato a allontanarsi da questi strumenti per recuperare o comunque credo sia molto necessario recuperare il fatto che appunto la costruzione identitaria debba passare anche da luoghi ed esperienze che uno fa col proprio corpo con la propria e con la socialità e poi aggiungere anche quelle che si possono fare con i social evidentemente io ho trovato personalmente molto interessante questa relazione proprio perché ha presentato l'oggetto dei social da tanti punti di vista alcuni positivi altri molto meno eccetera quindi direi che questa non schieramento manicheo mi sembra un approccio interessante che ci consente di entrare in una logica di dibattito e di confronto ecco a me è sembrato introduco subito una prima domanda non per togliere lo spazio ma la butto lì e poi qualcuno si aggrega se vuole è sembrato che in tutto questo ragionamento delle potenzialità dei social positivi come possibilità tu dicevi potrebbero essere luoghi dove entrare in esperienza in appartenenza a gruppi in modo non categorizzato non vincolato fuori dalle gabbie eccetera e altri aspetti di questo tipo e gli aspetti negativi invece che sottolineavi il non dover parlare dei propri problemi eccetera mi ha colpito questa cosa del dubbio non bisogna porre dubbi detta così mi lascia un po' angosciato nel senso che io credo che invece all'avere dubbi sia proprio la base di qualsiasi riflessione ragionamento e approfondimento però diciamo fra questi due elementi positivi e negativi che sicuramente coesistono la mia impressione è che manca un terzo elemento un terzo attore che è come dire il mercato cioè questi luoghi non sono luoghi neutri non sono l'insieme di persone che io incontro al bar o al parco perché anche una volta c'era il gruppo dei ragazzi che si scambiavano le loro esperienze ma in un luogo neutro al parchetto la panchina una volta la panchina era e invece questi sono luoghi non neutri sono luoghi gestiti costruiti con delle intenzioni ben precise che sono intenzioni di far profitto e quindi come dire la loro struttura le dinamiche relazionali che introducono eccetera sono finalizzate a quello cioè a mantenerle sempre di più a cercare sempre più like a darli per avere il like di rimando eccetera eccetera allora questa cosa qui mi lascia un po' più perplesso su l'utilizzo potenzialmente positivo dei social ecco ma la butto lì come dubbio ce l'ho un dubbio prego altre domande altri poi magari ne raccogliamo due o tre magari rispondi insieme perché poi abbiamo 20 minuti e non vogliamo farti perdere il treno naturalmente le tematiche sono state tante quindi sembrava strano infatti c'è un attimo di latenza il tempo che lei vada di dietro ripeto che siccome non sono esperta approfitto per fare questa domanda tra gli aspetti positivi abbiamo dei casi delle situazioni anche dei consigli da dare per episodi di solidarietà altruismo volontariato cioè voglio dire vediamo anche la potenzialità di uno strumento come la rete in situazioni di emergenza in situazioni di bisogno eccetera ci sono dei canali o delle realtà che hanno queste caratteristiche che riescono a sfuggire per lo più ai lati negativi della rete questa gogna allora io sono un'educatrice lavoro con i preadolescenti e gli adolescenti e un fenomeno a cui assisto purtroppo non per niente positivo non so se mi sai dire qualcosa è il fatto di come invece i social possano contribuire a amplificare la risonanza di comportamenti devianti tipo mi capita ultimamente sempre più spesso soprattutto da parte di ragazzine molto giovani il fatto di fare atti di bullismo di sopraffazione e di metterli su Instagram fra l'altro sono ragazzine infraquattordicenne quindi neanche punibili no? però proprio il fatto picchio la compagna fuori da scuola mi fotografo e mi faccio vedere cioè riguardo la costruzione di questa identità mi faccio vedere come sono brava come sono forte come sono coraggiosa come sono trasgressiva per cui la costruzione per cui la costruzione di un'identità fra virgolette deviante che viene amplificata dal fatto che ti vedano in tanti e quindi tu riproduci il modello del rapper piuttosto che di non so di chi ecco questo volevo ma non so bene no vabbè parto dall'ultima perché mi attiva mi attiva molto nel senso che evidentemente io credo che quello sia uno degli aspetti è un aspetto drammatico in realtà dei social perché ha a che fare col fenomeno diciamo del bullismo che è un fenomeno anche che precede evidentemente i social ovviamente la rete ha la tragicità del fatto che quell'atto non si ferma lì ma perdura nel tempo e quindi la vittima è una vittima che perdura nel tempo così anche come il bullo che insomma però effettivamente è è un elemento nuovo e che va affrontato io credo che su questo i social siano una tragedia nel senso ma la rete in generale sia una tragedia è che però l'unico lavoro che credo che abbia senso fare sia poi farlo sul su come si lavorava sul bullismo facendo presente che insomma la cioè nel senso il la sofferenza reale cioè nel senso è evidentemente anche provando cioè credo che uno dei modi più belli di lavorare sul bullismo è più difficile sia provare a partire dalla fragilità della figura del bullo o da provare a capire prima quel pezzo lì perché la vittima siamo più abituati a conoscerla e a identificarci in qualche modo provare a capire qual è la dinamica del bullo è estremamente complesso ovviamente c'è una grandissima fragilità anche in quella cosa lì e credo che il tema di quanto quella sofferenza sia molto acutizzata dalla permanenza è un tema estremamente rilevante anche perché cioè gli studi sono assolutamente chiari lampanti su questo c'è le vittime di bullismo e tanto più di cyberbullismo hanno degli effetti nella vita adulta che perdurano in qualche modo per cui è un elemento e credo che su questo sia molto difficile pensare che ci sia un isolamento nella rete perché la rete qua forse mi attacco un po' al tema del mercato non ha un giudizio su questo cioè nel senso che è fatta sappiamo di tanti profitti uno può essere sanzionato sulla rete però tendenzialmente sta nelle cerchie che si sceglie a differenza di come avviene ancora di più sulla rete uno si può cercare le cerchie specifiche e identificarsi nei gruppi specifici proprio in cui ci si ritrova e dall'altra parte non c'è nessun giudizio vero nel senso che ogni tanto vengono a caso chiusi dei profili senza nessuna logica evidentemente e quindi questo è un aspetto assolutamente drammatico infatti si parla molto spesso ma anche la sociologia quando parla di rete parla di brandizzazione del sé parla di un modello neoliberista che ha vinto e stravinto e che evidentemente non plus ultra dell'idea dell'autopromozione e dell'autonarrazione eccetera vicino al mercato che gestisce completamente in modo privato queste piattaforme e quindi poi tutti gli elementi di violenza che ne scaturiscono sono esattamente le violenze della società che vengono ovviamente acuite tantissimo per cui consiglio non te lo saprei dare se non appunto lavorare sempre sui temi del bullismo e provare a ragionare di questi aspetti devo dire che quando abbiamo fatto questi progetti nelle classi sono venute fuori una marea di esperienze fortemente negative ovviamente molto più le vittime si sono esposte in quel contesto ma l'esperienza anche traumatica da social è molto comune o da social che può essere whatsapp che può essere davvero fare attenzione estrema sull'uso delle proprie immagini tutto questo è un campo una prateria su cui bisognerebbe spendere tantissimo tempo a educarsi a vicenda su come si gestiscono queste cose io credo perché sono potenzialmente delle lame fortissime cioè fanno molto male e c'è anche un po' meno consapevolezza secondo me di quanto possano far male tutto sommato cioè c'è ancora tutto un mondo che pensa che comunque il pugno sia la cosa più dolorosa che puoi ricevere perché fa più male ma non è assolutamente vero nel senso che quel tipo di denigrazione online di messa cioè di essere resi così visibili è forse la cosa peggiore quindi anche un po' mettersi d'accordo su che cosa fa più male eccetera è un tema importante credo però appunto non rispetto alle potenzialità positive invece ma allora io su questo in realtà non so molto rispondere nel senso che qui se la domanda è su chi cioè nel senso su realtà tipo associazioni eccetera che usano i social come elementi positivi di conoscenza io credo assolutamente di sì cioè ormai viviamo in un mondo che è fatto per l'ottanta per cento di comunicazione e quindi esattamente cioè credo che ovviamente questo vada anche a favore di chi sa fare una comunicazione usa bene i social e dei buoni obiettivi siano assolutamente dei luoghi fondamentali nel senso ovviamente in tutto sta anche sempre la semplificazione di tutto per cui è facile passare un messaggio di solidarietà oppure far conoscere un progetto qualcosa però lo fai conoscere a persone che hanno già un po' in qualche modo quel tipo di sensibilità non credo che siano luoghi di costruzione di una sensibilità credo siano luoghi in cui semplicemente è più facile far girare una marea di informazioni ad un pubblico molto più vasto però appunto non sono luoghi della complessità io credo sì sì esatto anche però cioè la bolla effettivamente può essere grande per cui per tutta una serie di persone cioè tendenzialmente che poi non lo so è come molte persone non so se penso al mio uso di Facebook è proprio tendenzialmente solo di pagine di cose che mi interessa seguire tendenzialmente non tanto di persone per cui evidentemente poi sto nella mia totale bolla in cui il mondo sembra sempre che andrà tutto benissimo perché se guardo i miei social mi sembra fatto tutte le persone straordinarie però effettivamente non ha peso sul cambiamento magari reale della realtà però le esperienze positive uno riesce a metterle in comune abbastanza abbastanza bene io credo e sul tema del mercato appunto io mi collegherei al tema un po' del fatto che non c'è cioè è tragicamente una terra di nessuno nel senso che non c'è nessun tipo di etica probabilmente o se c'è è proprio sì gli estremi ma neanche perché poi ovviamente vengono chiusi delle pagine di odio online sensato ma contemporaneamente rimangono inspiegabilmente tutta un'altra serie di elementi ed è molto è molto complicato e poi soprattutto anche nei casi potenti di cyberbullismo eccetera comunque anche lì la denuncia è molto complessa non funziona tanto cioè togliere nel senso è diventa un casino cioè quando uno ha un'immagine di sé online che vuole eliminare è difficilissimo eliminarla questa roba io credo sia lucicene nel senso che sia proprio un problema per esempio cioè il fatto di non poter liberarsi ed è è questo sì io credo ma anche proprio nel fatto che si sia deciso a un certo punto che l'opzione era il like il cuore lo stupore cioè no che le emozioni siano quelle con cui ti relazioni beh fa un po' effetto che non siano scelte da un dal pubblico da ciascuno scelga le proprie emozioni ma siano quelle che hai a disposizione questo significa che appunto rispondiamo a logiche molto costruite che ci orientano tantissimo e drammaticamente sicuramente beh non ti chiediamo di risolvere il problema del neoliberismo in questa sede se c'è qualche altra domanda nel frattempo mi approfitto per ricordarvi che la prossima il prossimo incontro che sarà il 20 aprile sarà su un tema particolare che è quello dei NIT o NET a seconda di come si vuole citare l'acronimo cioè di quei giovani che non vanno non vanno a scuola non sono in un percorso formativo non lavorano non cercano lavoro l'acronimo NET riassume questa figura che è un fenomeno importante non non marginale e che guarda caso vede l'Italia prima in Europa adesso non ricordo se anche altrove ma sicuramente in Europa ha in percentuale un numero di NIT o NET più elevato che altri paesi quindi sarà una dedicata una serata dedicata esattamente a questo tema c'è una ricerca che hanno fatto interessante eccetera se ci sono altre domande prego no infatti questa è una cosa che mi riservo di chiedere la prossima volta per capire se i nicomori sono una sottoparte dei dei NIT o se sono due fenomeni del tutto separati me lo chiedevo anch'io ci sono altre domande interventi allora vista l'ora ringraziamo ancora la nostra relatrice la liberiamo la lasciamo tornare a casa speriamo di rivederci in altra occasione buonasera a tutti rivederci